ciao a tutti possiamo cominciare buon pomeriggio sono colini francesco di flash start vi sto parlando dell'italia in condizioni di tele lavoro di smart working e abbiamo pensato di approfittare di questa purtroppo pausa comunque forzata per investire in formazione in modo che quando la ripresa ci sarà insomma saremo tutti più motivati anche più preparati per offrire soluzioni comunque nostri clienti anche a proteggere le reti questo webinar tecnico questo è il primo di una serie di tre webinar abbiamo ipotizzato quest'oggi formazione su come implementare la protezione da contenuti malware su microtik il secondo webinar ci sarà giovedì prossimo 26 di marzo e si parlerà dell'integrazione granulare con active directory terza webinar 2 aprile e insomma poi speriamo che le cose cominciano piano piano comunque andare meglio in italia per lo meno e anche in europa il 2 aprile e su un webinar dedicato invece al mondo degli internet service provider la durata circa è di 35 40 minuti compresa una dimostrazione pratica e anche comprese chiaramente domande possiamo cominciare parliamo della protezione su microtik e comincio col darvi qualche cenno su flash start in questo momento noi proteggiamo circa un miliardo e duecento milioni di click in un giorno siamo presenti e insomma e lo dico con un pizzico e di orgoglio comunque italiano in oltre 100 paesi ci appoggiamo alla tecnologia dns che il protocollo base ed internet abbiamo un'infrastruttura cloud capillare che oggi insomma copre l'intero globo ci distinguiamo per avere prezzi molto competitivi e prezzi accessibili a tutti semplicità sia di installazione che di manutenzione sono sempre stati un po credo i nostri cavalli forti e puntiamo puntiamo alle piccole e medie imprese le cosiddette sm e l'enterprise perché oggi grazie alla versione che vedremo la prossima settimana pro plus sarà molto semplice anche poi installarlo su realtà insomma complesse scuole pubbliche amministrazioni e anche centri di hotspot wifi competitività e non serve nessun hardware aggiuntivo a parte comunque vostro router microtik e si può installare da remoto per cui se avete impreso oppure comunque anche semplici clienti oppure persone che vogliono proteggersi c'è l'installazione remota tra l'altro ricordo parentesi e da una nostra mail di tre giorni fa se avete clienti oppure se avete persone che lavorano da casa con lo smart working beh sappiate che potete tranquillamente e metterla poter installare la protezione gratuita per tre mesi che si presume e sia la durata del dell'emergenza come aggiungere la protezione sui nostri microtik intanto che cosa aggiungiamo cioè come facciamo per trasformare questo oggetto microtik in qualcosa di più potente intanto li possiamo aggiungere 85 diverse blacklist di sistema possiamo integrarlo con blacklist anche white list personale quindi anche digitarle credo che oggigiorno già le categorie di sistema coprono 99 99 per cento garantiamo l'aggiornamento ogni 24 ore proteggiamo dai motori di ricerca per cui se uno su google oppure su bing digita per esempio ricerca materiale pornografico il sistema ti blocca la search per cui tu hai soltanto dati che sono chiaramente ripuliti possiamo dire rispettiamo la privacy in quanto offriamo report e tutta la parte poi di analistica che è a piena norma gdpr qui abbiamo alcune insomma testimonianze sulle problematiche di un internet non governato negli ambienti di lavoro e anche problematiche insomma che sono sede di lavoro e anche di protezione dai malware qui abbiamo in questa tabella noi parliamo e di malware e ci dice questa fonte è un instruction britannico del febbraio di anno scorso quindi un anno fa circa quindi sono peggiorate le cose sotto questo punto di vista ci dice quali quali categorie di siti sono stati maggiormente compromesse quindi quali e tipologie di siti soffrono gli attacchi più importanti di phishing penetrazioni quindi siti ai quali se e se accediamo senza le protezioni possiamo rischiare chiaramente l'incolumità della nostra rete e anche dei nostri dati le principali minacce che tutti conosciamo sono i ransomware le botnet virus worm trojan quindi cavalli di troia e poi ci sono anche intrusioni che sono basate su specifiche applicazioni che vengono scaricate sul nostro computer oppure sul nostro smartphone flash start e mediamente consente contiene la protezione per usare un termine oggi in voga e sperato contiene la vaccinazione per circa 350 mila diversi malware perché proteggere comunque utenti rete come proteggere 20 rete intanto li proteggiamo contro malware e anche feriti informatici quindi ransomware phishing attacchi applicativi ed anche tra poco lo vedremo comunque in dettaglio tante tante altre categorie di malware rimuovere distrazioni dipendenze e contenuti per adulti che molto spesso poi diventano anche illegali perché alcuni siti pornografici visti sul lavoro oppure a scuola possono anche poi portare a conseguenze di tipo legale filtraggio granulare basato su utenti gruppi quindi differenziare per utenti gruppi la nostra protezione passa la pratica passa la pratica perché voglio farvi vedere quest'oggi abbiamo collegato un normalissimo router micro tic condivido lo schermo chiedo chiedo conferma se vedete la schermata di login chiedo conferma se mi dite se vedete la schermata in questo momento di login si vede mi dice bene allora intanto ci colleghiamo chiaramente con l'italiano questa istanza l'abbiamo farcita con grafici questa è l'area multi clienti l'area cliente con le scadenze i prezzi gli strumenti di vendita gli strumenti e di supporto ci arriviamo dopo clicchiamo subito sulla gestione della nostra protezione bene siamo pronti per configurarlo come seconda applicazione mi apro un box tutti conoscete un box perché insomma credo che il 99 per cento di voi pure quasi configura i microstick tramite un box più che tramite terminale tutti conoscete un box tutti utilizzate un box vi sto guardando si dico tutti bene ok c'è una standing ovation fantastico allora prima configurazione lo connettiamo intanto flash start ci offre due diverse modalità di installazione lo standard per i venditori imprese scuole pubbliche amministrazioni famiglia oppure la seconda la è l'installazione per i provider ci arriveremo invece giovedì 2 d'aprile intanto parliamo dell'installazione standard quindi per esempio siamo comunque un'impresa in una scuola in una famiglia vogliamo attivare flash start per arricchire per cercare di arricchire la nostra configurazione microstick procedi se avete l'ipistatico il sistema già lo rileva oppure si può sempre digitare in questo caso la configurazione l'avete già fatta ma se avete dubbi se avete un l'ipistatico oppure se avete un l'ipidinamico clicchiamo su connetti un router quindi clicchiamo sulla seconda e voce procedi posso scegliere possa avere guida anche procedure guidate e forse credo per la maggioranza di router oggi in commercio tuttavia se il router che utilizzata parte microtick non fosse listato in questa maschera con la configurazione manuale si ottiene chiaramente tutto clicco microtick e poi procedo posso scegliere se fa la configurazione manuale quindi digitare tutti i miei script la schedulazione e il redirect del dns oppure se scegliere la configurazione automatica scegliamo l'automatico ok ci piace farla facile mire autentico con le credenziali di flash star quindi il sistema mi richiede di validarmi prosegui non salvo chiaramente ecco qua a questo punto si vede questo è uno script in formato microtick questo è uno script già pronto che cosa fa crea un'autenticazione con usere password sicura sotto ssl e come dynamic dns la schedula ogni due minuti è commentato anche in inglese poi in fondo aggiunge se mantengo cliccata la redirezione automatica delle query dns sul filtro se la mantengo il sistema aggiunge sul modulo firewall nat due redirec uno per il tcp uno per udp e in modo che tutte le richieste dns vengano dirottate automaticamente su flash star quindi se un utente fa il furbetto che cambia dns perché capito come gira e mette per esempio google 8 8 8 8 8 automaticamente lui sarà comunque rediretto indietro anche se ha fatto comportamenti da furbo chiedo se è visibile fino qui chiedo se è comprensibile fino qui mi date un feedback nella chat grazie molto bene allora io copio lo script poi proseguo bene siamo nella fase cruciale adesso dobbiamo semplicemente dobbiamo recarci sul sul nostro router microtik mi collego quindi qui sono su winbox faccio new terminal quindi mi apro una finestra di terminale posso anche restringerla comunque non c'è problema tasto destro faccio paste faccio incolla bene questo è lo script che ho incollato apparentemente il mio sistema non fa più niente posso già chiudere la parte di terminale cosa ha fatto flash start system script mi ha creato uno script di autenticazione me l'ha schedulato system scheduler me l'ha schedulato ok tutti i minuti per cui comincerà ad agire tra un minuto su invece su ip firewall mi ha creato sul nato due redirezioni con destinazione quindi lui dice se vedi query dns in udp anche in tcp serve anche in tcp perché a volte certi certi client possono anche fare downgrade sulla connessione tcp sono molto strani mosche bianche però ci sono bene per velocizzare cosa faccio non aspetto un minuto ma lancio a mano faccio run scritta mano quindi lancia mano il mio script che poi verrà mantenuto attivo e tutti i minuti torno su flash start adesso vi dico testa la configurazione complimenti la tua rete è connessa chiudi che è successo che se vado su reti vedo che autenticato e qui ottengo lipistatico che sta davanti a router microtik e sono autenticato con successo quindi vuol dire che tutte le query dns che vanno fatte su flash start tramite l'ip 85 18 248 198 saranno filtrate mi propone due server dns possono esserci fino a cinque copie per differenziare i vari profili e a questo punto qui sono pronto per configurare la protezione chiedo fino qui se chiaro faccio ogni tanto dei stop se sei chiaro fino qui come è stato bene molto bene chiaramente ricordiamo che le query dns che vengono fatte anche se non cambiate dns sui vostri client sono automaticamente ridirette e girate su flash start bene qui abbiamo già qualche report ok l'ho aggiunto per insomma per dar qualcosa di più completo perché richiediamo circa 10 11 minuti per poter comunque popolare il record per la prima volta che abbiamo siti bloccati per per categoria giochi dns proxy malware pornografia proxy anonimi nel secondo tab abbiamo invece siti consentiti per categoria quindi quelli per i quali il nostro e dns ci fa ricorsione terzo tab quello col mondo abbiamo invece le direttrici di traffico di risoluzione dns e divise per paesi e per continenti sotto invece abbiamo invece la parte di malware quindi le minacce gli osti infetti che sono stati bloccati per andare sul dettaglio clicco chiaramente clicco su più dettagli vado su mio dettaglio vado e che ottengolo spaccato se clicco per esempio su giochi posso vedere quali siti quali domini sono stati chiesti per la categoria giochi chiaramente vedo e vedo il traffico in dettaglio sul globale dell'intera azienda dell'intera scuola che dell'intera e struttura non conserviamo informazioni sensibili quindi io non so quali utenti hanno comunque acceduto a che cosa chiaramente ottengo una visione globale così possiamo sfogliare diversi rap per esempio rapport consentiti per categoria questo è il contrario colore verde per esempio vediamo quali quali web mail sono state aperte ok gmail mail office 365 outlook abbiamo i dettagli posso anche scegliere di quale profilo e chiedere i dettagli selezionare l'intervallo le date di intervallo posso anche esportarli in pdf e possa anche schedularli per email quindi semplicemente posso ottenere tutti i giorni una volta a settimana comunque una volta al mese per email e report che ritengo più utili per le mie attività ti mostro questo che anche abbastanza carino qui vediamo il traffico dns per fascia orario che vediamo la curva che che viene fatta all'interno del giorno prendo anche ieri perché oggi ancora in corso chiaramente vedo ok l'andamento delle delle mie query dns quindi vediamo i vari picchi di traffico come gestisco le categorie molto semplicemente abbiamo 85 diverse categorie che sono raggruppate in diversi macro categorie per esempio se io spunto la categoria dei siti indesiderati vedo gli adulti le armi a stilline a chat fino ad arrivare alla pornografia anche la sessualità se invece spunto la lista dei malware malware and thrift io ottengo le backdoor le botnet e attività malefiche phishing ransomware e ci sono diverse categorie anche diversi livelli possiamo consentirle bloccarle oppure anche schedularle perché molto spesso le imprese dicono vorremmo dare facebook ma non dalla sempre magari vorremmo comunque restringerla in in orari specifici si può fare cosa faccio io clicco su schedula blocchi in corrispondenza della categoria social network in questo caso qui poi dico facebook dalle 9 di mattino fino alle 5 di pomeriggio la voglio bloccare nulla di più semplice quindi imposto il range del mio blocco posso scegliere se includere anche il sabato anche la comunque domenico ogni giorno clicco su su inserisci bene nell'area rossa nel range rosso facebook sarà bloccato prima e dopo invece facebook sarà consentito quindi posso anche temporizzare le richieste dns concedendole oppure no a seconda della fascia oraria blacklist e white white list personali ce le avete chieste molto spesso si possono inserire blacklist personali per esempio qualche sito che vogliamo comunque bloccare qualche sito magari che non è ancora compreso si possono inserire delle white list personali io posso bloccare tutti social network tranne linkedin cosa faccio blocchi social network poi vado su white list personali digito linkedin e linkedin puntocom clicco su conferma e e faccio un'eccezione solo per la categoria di linkedin da notare che di default sono automaticamente bloccate le ricerche pericolose sui principali motori di ricerca google e bing per cui se le immagini scomode che vengono fuori soprattutto in ambienti con minori in ambienti comunque dicati comunque educativi e vengono automaticamente bloccate e anche tirate fuori faccio notare che abbiamo inserito proprio ieri e infatti c'è un mailing in questi giorni siamo molto presenti come meglio forse anche troppo quindi scusateci se spediamo molto però comunque desideriamo far vedere che siamo attivi operativi e che stiamo comunque tenendo aggiornato in modo molto importante come non mai il nostro sistema se andiamo sui siti sui ecco pericolosi troviamo da ieri sera la categoria frodi coronavirus perché più di 15.000 nuovi domini sono stati registrati dall'inizio di marzo fino oggi e con le parole chiave coronavirus pandemic epidemic mask sono siti che al 99 9 per cento dei casi fanno frodi quindi vendono maschere voi pagate e queste maschere non arrivano mai perché neanche loro le hanno e vendono miracolosi farmaci vengono comunque vaccini che non esistono per cui siamo anche in grado di isolare e tutti e tutte tutte le nuove registrazioni di siti contenenti parole chiave sospette che spesso e volentieri si rivelano delle pericolosità controllo se vi sono comunque domande proseguo velocemente geoblocking cos'è il geoblocking noi siamo in grado con flash start di bloccare la risoluzione di annesse su domini che in pratica sono ospitati sono residenti fisicamente su paesi che consideriamo a rischio di infezione informatica voi sapete e si stimo oggi che il 95 per cento della produzione di malware a livello mondiale sia circoscritta in un continente in qualche nazione vediamo chi risponde correttamente faccio un piccolo quiz per farvi capire dov'è russia poi che offre di più cina russia sì vediamo la terza risposta brasile qualcosa non molto comunque e russia russia e commonwealth degli stati indipendenti russi se il vostro cliente se voi non avete rapporti per cui visitate la russia se la bloccata automaticamente voi e comunque riusciti in questo caso blocco il continente però potrei anche bloccare soltanto alcune posti in questo caso io riduco sensibilmente l'infezione di malware qualcosa sull'est europa vi potrei suggerire alcuni siti che potrebbero anche essere insomma certe volte oggetto di server infetti l'ucraina soprattutto è qualcosa nella bielorussia chiaramente blocchiamo le connessioni satellitari perché sono comunque apparati utilizzati per la grande maggioranza da hacker e operati informatici e chiudiamo i siti ospitati su IP che non sono definiti cioè indirizzi IP che sfugono al controllo IANA lo IANA è l'organismo mondiale per la registrazione degli indirizzi IP così lo blocco bene la parte report l'abbiamo vista vi mostro soltanto l'integrazione con la T directory che sarà oggetto del webinar della prossima settimana quindi avremo anche la sincronizzazione nativa col domain controller e anche avremo la possibilità di installare nella nostra rete un proxy DNS ma questo argomento della prossima settimana vi mostro due tipi di ricerche dati storici quindi noi siamo in grado di conservare fino a sei mesi di informazioni invece questa è l'analisi in tempo reale quindi possiamo vedere quali query DNS bloccate e consentite vengono gestite giusto una nota sull'infrastruttura vi mostro le statistiche della nostra infrastruttura stanno arrivando c'è un monitor che vi consente comunque di vedere i data center come sono in quali condizioni sono e la risposta del carico ecco vediamo che adesso abbiamo tutti i nostri data center in linea Milano sul mix Francoforte Singapore Miami Johannesburg Seatol San Paolo c'è comunque un nostro dedicato per l'America Latina e Middle East chiaramente in caso che un nodo abbia problemi quindi il traffico viene automaticamente switchato noi siamo e siamo autonomous system e tramite BGP facciamo uno switch in frazioni di secondo quindi c'è un uptime e anche una copertura che è molto importante spendo anche un'altra parola se avete diverse white list da importare oppure black list perché magari provenite oppure migrate da altri prodotti concorrenti c'è anche l'importazione bulk per cui potete scegliere per esempio avete mille siti da bloccare potete scegliere chiaramente di inserire per dire sulle black list personali selezionando il vostro file di testo e questo automaticamente verrà comunque importato giusto una nota sul multiprofilo giusto una nota sul multiprofilo questa è la gestione profili di navigazione noi possiamo creare un nuovo profilo per esempio parliamo del magazzino ok? sul quale poi voi definirete quali sono le macchine e potremmo assegnare una coppia di DNS sono sempre due specifica per il magazzino clicco su inserisci ok questa l'ho già usata sono tutte usate mi sembra forse questa qui è libera mettiamo questa qui ok io la clicco eccola qua magazzino in questo caso puntando questa coppia specifica di server DNS magazzino quindi quelli che finiscono con 114 e con 115 vado poi ad agganciare diverse policy di configurazione se guardate cambiando dalla profilazione magazzino vedo che le policy sono come resettate per cui a questo punto mi posso costruire la mia politica di sicurezza, di blocco, di blacklist, whitelist e anche chiaramente di reportistica c'è un messaggio che mi dice ma se noi abbiamo 5 profili e blocchiamo Facebook dobbiamo farlo su ogni profilo? chiaramente no perché c'è anche la funzione sincronizzate i profili che vi consente per esempio di sincronizzare la selezione di siti pericolosi potete sincronizzarlo sugli altri profili che avete creato quindi abbiamo comunque funzioni di gestione bulk e di sincronizzazione facilitata soprattutto per amministratori di rete che vi aiutano nel normale lavoro vi mostro la ricerca su liste metto sex.com io posso vedere che sex.com è contenuto in pornografia vedo che i server fisicamente sono in Canada quindi America del Nord e che non ho alcuna white list di eccezione ovviamente presente le liste noi produciamo le nostre liste sono liste che vengono create da un sistema che abbiamo costruito negli anni di intelligenza artificiale e poi vengono mantenute da persone, da umani quindi vengono campionati farsi positivi, farsi negativi vengono alimentati nuove score vengono create poi le nuove basi per recepire e per poter classificare anche tutti i nuovi siti se ritenete che c'è un bug di catalogazione cliccando su segnalo un bug voi potete sottometterci la review quindi comunque richiedere una revisione e suggerirci per dire che un certo sito deve essere spostato in un'altra categoria con un tempo massimo di 4 ore lavorative tutti i sistemi in cloud vengono chiaramente aggiornati spendo un'altra parola che ritengo importante sulla parte di supporto come supportiamo la nostra clientela siamo italiani credo che siamo l'unico filtro DNS creato, sviluppato e anche mantenuto in Italia quindi il nostro supporto deve essere il minimo superiore a tutti i competitor comunque esteri intanto abbiamo una chat che è sempre operativa chat H24 sulla quale avete subito un operatore che è pronto c'è possibilità di richiedere assistenza tramite ticket c'è possibilità di pianificare delle chiamate con noi degli interventi remoti quindi se volete installare se avete un problema con un cliente con un profilo con una configurazione potete chiedere con un nostro tecnico di seguirvi e di accompagnarvi per mano e sull'installazione l'area documenti l'abbiamo completamente rivista quindi abbiamo diversi capitoli dalle configurazioni avanzate primi passi licenze le versioni la protezione il marketing abbiamo anche strumenti di marketing per i rivenditori le guide router abbiamo guide già pronte queste micro tick per i modelli più venduti più in uso di router qui abbiamo anche proprio la guida specifica che vi spiega poco fa cosa abbiamo fatto quindi vi mostra lo script vi mostra le immagini e vi fornisce anche tutta una serie poi di informazioni utili per esempio su come ridiriggere automaticamente le richieste e come bloccarle sui nostri server quindi abbiamo insomma diverse tipologie le FAQ sono insomma chiaramente presenti la parte di listino prezzi che è online con le condizioni anche di rivendita ecco c'è anche la possibilità poi di avere di scaricare dei video già pronti questa è l'area cdpr qui ci sono comunque video formativi legali e insomma tutta una serie di slide e di soluzioni già pronte anche per avere un supporto normativo sull'ambito cdpr torno un secondo sull'interfaccia web clicco sull'area clienti come ho detto oggi in apertura vi ricordo che se siete rivenditori dealer potete attivare quante trial volete ai vostri clienti quindi insomma fornirli 15 giorni di di gestione tutti i dealer e anche i rivenditori chiaramente potranno lavorare in ottica di multi tenant quindi potranno tramite un accesso unico un accesso master governare gestire la protezione anche la sicurezza per tutti i loro clienti torno alle slide perché volevo puntualizzare è giusto un argomento che è interessante torno ok eccoci qua torno alle slide multi tenant lo ho definito sono comunque sistemi di roll out comunque automatici per esempio noi forniamo la protezione per Vodafone per tutti i bus di Madrid Pamplona Barcellona e Siviglia sono parliamo di 3400 bus abbiamo creato degli scripting automatici per fare deploying massivo su queste realtà qualcosa sul video streaming il video streaming molto spesso è responsabile anche del collasso della banda quindi già con la protezione DNS insomma si riesce a limitare molto e si riesce a contrastare l'abuso di contenuti online parliamo dell'API abbiamo forniamo un intero set di API supportiamo sia il vecchio SOAP per motivi legacy che ovviamente le API RESTful le API servono per poter integrare qualche parte oppure tutto Flashstart nella vostra dashboard nella vostra area pensate a un Internet Service Provider oppure pensate a un fornitore di servizi dello spot Wi-Fi potrà chiaramente integrare report e anche dati statistiche direttamente sull'interfaccia proprio come se i dati fossero nativi sulla vostra interfaccia chiaramente cito anche la white label c'è un errore c'è un type di battitura dovuto alla traduzione comunque c'è possibilità anche di avere una white label per esempio protezione .computershop milano .com basata sulla sulla vostra azienda ecco giusto un cenno sul prossimo webinar giovedì prossimo parleremo dell'integrazione con la T-directory creeremo la protezione granulare per utenti gruppi quindi differenzieremo la protezione per utenti gruppi per esempio i tecnici commerciali gli impiegati i manager gli agenti di vendita vedremo come supportare anche le macchine che non sono in dominio quindi le macchine workgroup vedremo come si rilevano automaticamente i computer che sono infetti perché un computer infetto dà un segnale dà un sintomo che è molto evidente si mette a fare centinaia oppure migliaia di query DNS sugli stessi domini oppure su una serie di domini questo ci dice che è infetto grazie alla protezione granulare di ProPlus possiamo tranquillamente capire la macchina l'utente che è logato e anche l'eventuale MacAlters poi vedremo che in dieci minuti questa volta l'estrata comunque in un minuto in dieci minuti faremo un'installazione completa di un ambito ProPlus qui vediamo la comparazione delle due versioni la versione Pro che è la versione vista oggi quindi la versione senza integrazione con l'Aki Directory con le funzioni quindi filtro contenuti filtro malware blocco geografico blocco motore di ricerca report analisi filtri basati su DNS anche interfaccia multitenant invece la versione ProPlus che vedremo ripeto giovedì prossimo funziona anche come integrazione vi fornisce la cache locale filtro granulare e reportistica per gruppo e anche tante altre funzioni comunque interessanti c'è un messaggio vedo Davis mi sono perso all'inizio il micro può essere installato tra router e rete aziendale senza dover toccare le configurazioni del router sì e si può fare in questo caso se tu hai già un router generale quindi mettiamo un router telecom oppure un router fast e poi tranquillamente collocare il micro tick in mezzo lo metti come bridge per cui come default gateway sulla rete ti rimane sempre il router iniziale e a quel punto comunque le query DNS funzionando anche in modalità bridge vengono dirette su flash start è possibile oppure il micro tick può tranquillamente sostituire e rimpiazzare qualunque qualunque altro router vi chiedo due cortesie intanto diamo via le domande poi c'è una conclusione quindi inserisco l'intervista inserisco l'intervista e vi chiedo insomma se così avere un piccolo un piccolo diciamo feedback se vi è piaciuto il nostro webinar prendo il prendo il sondaggio ok in mano eccolo qua ok vi lancio l'intervista ok sono poche domande però ci interessa chiaramente avere un feedback siccome arrivano i diversi messaggi privati la regia me lo sta confermando che volete anche avere accesso ai prezzi alle eventuali condizioni di rivendita vi passo un link che se volete se volete avere un qualunque feedback su su qualcosa potete tranquillamente ve lo sto creando richiedere prezzi anche le condizioni di rivendita chiaramente i prezzi sono online per cui ci si presenta ci si qualifica e poi si viene comunque abilitato in genere nel giro di mezz'ora circa un'ora ecco passo anche il link sta arrivando in sovrimpressione eccolo qua sopra c'è il link dovrebbe esserci una riga verde richiesta a prezzi quindi compilate la form nel caso domande spazio le domande prego qualunque domanda dubbio tecnico critica suggerimento curiosità e idea intanto vi chiedo siete operatori siete utenti finali siete amministratori di reti Maurizio sto appena iniziando come mi consigli di iniziare buona domanda Maurizio chi sei sei un dealer sei un consulente t sei l'amministratore di una rete aziendale di una scuola chi sei Maurizio bene allora sei un dealer intanto ti consiglio di provarla sul tuo micro ti registri su cloudflaster.com ti fai un account ai 15 disoni gratuiti e tranquillamente ti puoi provare poi ti consiglio di testarlo su due clienti amici ok magari due clienti che tutti tutti i rivenditori comunque hanno i clienti pilota e li fai ricevere chiaramente i report quindi una settimana tu hai messo il filtro parti con una configurazione base per esempio blocchi malware anche la pedoponografia e poi dopo cominci a comunque espandere la tua trial quando dimostri con i report che li hai messi in sicurezza la rete che hai fatto in modo che nulla poi viene lasciato al caso questi poi ti chiederanno la quotazione e poi vendere flashstart con una marginalità che se chiedi prezzi insomma vedrai essere veramente molto importante comunque provatelo sul vostro laboratorio secondo passo invece provatelo presso i vostri clienti è molto importante abbiamo anche fatto dei webinar commerciali se andate su youtube su youtube punto com slash flashstart 2012 ok troverete anche tutta una serie di webinar commerciali quindi potrete vedere potrete avere tutta una serie di contenuti di webinar che vi aiutano su come vendere anche su come fidelizzare poi la vostra clientela per la parte di filtro contenuti domenico mi dice ok maurisa grazie a te sono domenico docente amministratore di rete della scuola professionista consulente e progettista e di sistemi benvenuto domenico qual è la tua domanda prego intanto vi chiedo di continuare con l'intervista è molto importante per me per noi insomma capire comunque i webinar come possono essere migliorati adattati cambiati come dare insomma comunque nuova linfa e anche nuove nuove idee per il canale per le imprese e per le scuole d'Italia domenico sta intanto scrivendo la domanda se vi sono altre domande sono comunque a disposizione ancora per altri 4-5 minuti possiamo continuare il nostro webinar chiedo ok intanto attendo la domanda vi ricordo ancora che per i prezzi cliccate in alto sulla banda verde c'è un bottone rossastro con richiedi e si compila la form che poi vi porta alla richiesta dei prezzi ok domande dubbi curiosità vedo che ci sono diversi partner già clienti anche nuovi clienti e insomma credo che comunque già clienti possano dirci quanto è facile installare Flastart quanto anche remunerativo ritengo perché comunque il margine credo insomma che in giro sia difficile trovare dei margini simili e anche quanto quanto è insomma comodo centralizzare la protezione dice sì cesare esatto varie sistemi integrator infatti lavoriamo tantissimo con i sistemi integrator oggi abbiamo circa 350 partner nella sola Italia e abbiamo 720 20 25 partner invece a livello mondiale molti in America Latina Sud Africa in Europa tanto Canada e Stati Uniti stiamo arrivando vedo che state ok Domenico mi dice che a scuola prima del mi arrivo è stato messo un firewall che gestisce quattro linee in ingresso come possiamo integrare il vostro prodotto e con quali costi questo è un unico firewall che poi splitta la connessione su quattro diversi carrier quindi per esempio Telecom Fast Beolo e Wind mi confermi Domenico che è così sì ok no guarda è semplicissimo torno ancora sulla scondivisione schermo tu avrai quattro linee con con IP differenti benissimo lo tratti come se tu avessi quattro sedi diversi si vede la condivisione vi chiedo soltanto se è visibile la condivisione dello schermo molto bene tu cosa fai tu quando hai definito comunque la prima rete che corrisponda alla prima delle due quattro linee puoi aggiungere una nuova rete ti mantieni sempre sullo stesso profilo poi definisci un'altra connessione quindi comunque definisci per esempio un'altra connessione microtik ok non hai problemi puoi definire quante connessioni vuoi poi tutto il traffico dns di queste connessioni verrà verrà fasciato verrà comunque raggruppato in questo caso io definisco un altro microtik questa volta il sistema mi chiede l'user la password perché me lo chiede maurizio perché la prima login che è quella con la quale mi sono registrato ce l'abbiamo già inserita nel sistema qui per esempio metto che ne so scuola02 posso anche mettere soltanto una username senza la chiocciola gli metto una password confermo una password e poi nella seconda linea comunque ripeto la stessa configurazione che ho fatto prima quindi posso rautenticarmi farò uscire questa questa sincronizzazione dalla linea comunque numero due se invece se invece se hai comunque semplici semplici comunque indirizzi ipistatici vedi che ne hai due semplici comunque ipistatici li puoi definire tranquillamente quindi con l'ipistatico non devi nemmeno configurare nulla sul router puoi aggiungere un ipistatico in questo caso e ti viene aggiunto ok poi tu crei sui profili in questo caso clicco sul profilo ok di default coinvolgi inserisci tutte le linee tutte le sedi perché questa configurazione multisede oppure multilinea viene anche utilizzata per le scuole oppure per le imprese per esempio chi ha un ufficio oppure recapiti che sono distribuiti su diversi plessi tu tu li associ le linee associ le sedi sui profili e a quel punto la parte di filtraggio ti verrà fatta centralmente quella parte di filtraggio ti verrà fatta centralmente hai anche due sedi periferiche tranquillamente le puoi inserire sempre sulla stessa configurazione tranquillamente quindi li affasci li vai ad affasciare e li vai a collegare proseguiamo ancora spero Maurizio che sia tutto chiaro e che rispecchi la situazione che mi hai presentato chiedo se vi sono altre domande intanto vi chiedo ancora ne mancano pochissimi per i costi vedi il link in sovrimpressione clicchi su richiedi prezzi ce l'hai in alto e puoi automaticamente compilare la form e ti vengono comunque abilitati i prezzi per le scuole direttamente online se Andrea mi passa dalla regia per piacere comunque il link anche in chat così uniamo anche il link per i prezzi ecco li chiedi e poi ti abilitiamo altre domande manca ancora qualcuno che deve compilare l'intervista per piacere questo è molto importante per anche insomma calibrare i nostri interventi domande tecniche anche se volete commerciali posso provare nonostante sia di estrazione comunque tecnica posso provare a fornire comunque una mano prego vedo che ancora ci sono domande proprio ok c'è anche il link per i prezzi in chat solo due minuti se vi sono altre domande se no intanto vi invito a fare comunque l'iscrizione per giovedì prossimo stessa ora stesso webinar stesso flashstart e parleremo dell'integrazione pro plus con l'acti directory quindi giovedì prossimo 26 c'è l'integrazione con l'acti directory intanto vi auguro tre cose intanto buona salute sicuramente a tutti che è la cosa più importante buona festa del papà perché oggi è il San Giuseppe 19 di marzo e vi auguro anche buon successo per quando insomma si ricomincerà Maurizio mi dice molti dei nostri clienti sono stabilimenti banneari che danno spot possiamo configurarlo certamente sì abbiamo le configurazioni già pronte per esempio per lo spot come Tanasa oppure come tanti altri spot ma qualunque router in quel caso tu vai a filtrare il traffico può anche fare una configurazione unica se hanno più antenne e sui prezzi sui prezzi Maurizio vedrai che avrai proprio la modalità di licenza che si basa sul numero di antenne cioè sul numero di access point ok più antenne hai più paghi meno antenne hai meno paghi vedrai che i prezzi sono sono ampiamente competitive anche insomma per il mercato balneari che ci auguriamo possa ripartire velocemente nel mese di maggio bene su ore 16 io ho promesso di essere comunque cedere ce l'ho fatta credo abbastanza bene grazie a voi vi lascio altri 5 minuti per compilare perché mancano alcune domande e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana per mercoledì prossima alle 15 potete comunque registrarvi dalla stessa mail chiedi i prezzi come professionista oppure come scuola e se lo rivendi tu professionista se invece lo compra la scuola le chiedi come scuola c'hai comunque la scelta online per il doppio listino bene ci risentiamo nella prossima settimana nella stessa mail con la quale vi siete comunque iscritti c'è anche la possibilità di registrarvi per i prossimi webinar grazie a tutti una buona continuazione di giornata ciao ciao